ciao a tutti da luca css bentrovati in un nuovo video di me on to solo io in verità avevo fatto le registrazioni e gameplay che ho inserito in internet tutte diciamo così una di seguito all'altra è da un po che non gioco quindi probabilmente mi sono dimenticato di tutto queste sono diciamo le cose che abbiamo già fatto che ce le fa vedere in ordine diciamo da sinistra verso destra solo che il problema che io mi sono dimenticato siamo così l'ultima cosa che abbiamo fatto vabbè vabbè senza tetto perfetto siamo in clima natalizio e nevica anche di brutto la nostra Ellen Page che passa diciamo così salta da un tempo a un altro una volta la troviamo bambina una volta la troviamo ragazzina grande bambina e via così insomma eccola il nuovo teenager la nostra Ellen Page la nostra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo se questo tizio ci può aiutare. Mi da l'idea di nuovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi sto praticamente perdendo la nostra alien page. Ci raffiamo o non ci raffiamo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo se questo carrello può svegliare. Ok. Ok. Chi va là? Era ora eh? E' bello che ti accorgessi di Helen Page. Perfetto. Giordino! Giordino! No! 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 Mi fa piacere un po' di compagnia Vuoi del caffè? È forte E fa veramente schifo Ma ti aiuterà contro il fretta Dai Jody Bibi un po' di brodaglie Per quanto tempo sei sulla strada? Qualche settimana Più o meno Per da quasi tre anni ormai Quante volte ho pensato che sarei Crollata Che sarei uscito matta Ma poi ci si abitua a tutto Anche a vivere di niente Sei asperbata? Mi dore Fidanzato sballato Roba così No niente del genere Sempre verità eh Problemi con la legge? Ah io ragiono Non sono a fare Non hai ucciso nessuno Ah ma sta bene Ce l'hai un posto dove andare? Una famiglia? Gli amici che ti hanno a te? No Beh forse qualcuno c'è Non voglio vederlo Non così Puoi restare questa poi Non ho molto da offrire ma Quello che è mio è tuo Grazie 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 Grazie, stai. Dio. E' altra l'ai cominciato. Però lì è Walter Certo, alza un po' troppo il gomito, ma è una brava persona E poi c'è Jimmy Voglio stargli alla larghe se non ha la sua dose E la ragazza è Tuesday, è incinta Povera anima Avrei preferito che non mi salvassi Sì, lo so, cara Lo so Ma devi sapere che ci passiamo tutti A volte bisogna solo Tenere duro e aspettare che passi Tutti abbiamo il nostro posto nel mondo È solo che ci vuole un po' a capire quale sia Perché mi hai aiutato? Dovevo lasciarti lei a cangelare Motevo aiutarti e l'ho fatta Tutto qui Perfetto Con questo video è tutto Luca CSS vi saluta E Leon Chusol Andrà avanti col prossimo video Ciao a tutti Ciao, ciao, ciao Ciao